Il Partito Democratico e la CGL fanno il punto della situazione sul caporalato a Grottaglie, vero e proprio centro di smistamento dei braccianti agricoli dei comuni orientali del Tarantino e del Brindisino in un incontro allargato a tutte le rappresentanze sindacali, amministratori regionali e parlamentari le conclusioni con le istanze ai governi regionale e centrale affidate al sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova per estendere l'applicazione del reato di grave sfruttamento del lavoro non solo ai caporali ma anche alle imprese che fanno ricorso ai caporali ma chiediamo anche che le regioni si attivino per mettere in campo un vero servizio di trasporto disponibile per i lavoratori e le lavoratrici agricole perché quello è lo strumento più grande che hanno i caporali per sottomettere i lavoratori e le lavoratrici la lotta al caporalato non è solo una questione di legge è una questione di civismo ha fatto una serie di iniziative grazie a tutti grazie a tutti